Un incontro tra amici dedicato al mondo della cinofilia per darsi la rivederci alle attività del prossimo autunno, quello organizzato nella struttura della Sagra di Paganico dalla sezione di Lucca della Società Italiana Setter e da Federcaccia. Il pretesto è quello di parlare di cani e arte venatoria, poi siccome spesso anche i momenti di approfondimento su tecnicismi sportivi cedono il posto alla convivialità, ecco ricette e buon vino diventare fulcro dell'evento. E così piatti come le penne alla stanziale e il risotto di colombaccio preparati dal responsabile capannorese di Federcaccia Pasquino Lucchini hanno riscosso il meritato successo. La cena, che serve anche per autofinanziare il gruppo di appassionati cinofili, ha visto la partecipazione di iscritti e non arrivati anche dalle province vicine.